E ci siamo amici biscotti, io sono Andreoreo e benvenuti in questo nuovo gameplay di Minecraft. Ma prima di iniziare col video vero e proprio, devo assolutamente salutare Diegosium. Grazie mille di tutto il supporto che mi dai sotto i prossimi video, perché se non lo vi iscritto effettivamente sotto i prossimi video e se anche tu vuoi essere salutato nel prossimo video, ti basta solo lasciare un like, iscrivete al canale e commentare. E volevo anche dire, se per caso non sto seguendo i vostri suggerimenti, è perché ho registrato tipo 3-4 video a fila e perciò devono passare questi 3-4 video a fila prima che posso eseguire i vostri suggerimenti. Comunque, show time! Direi che non dobbiamo perderci troppo in chiacchiere e iniziare col gameplay. Allora, allora, cosa dovevamo fare assolutamente? Allora, dovevo fare, voglio vedere una cosa. Il tappeto, tappeto, come si fa? Con due blocchi di lana, con due blocchi di lana. Abbiamo delle stringhe, mi sa che ci tocca ritornare a casa. Perciò, ragazzi, oggi si torna a casa. E fiuuuu! Oh, oh, la prendo al volo! Ok, 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 le barche ci fanno male, ragazzi, le barche ci fanno male. Comunque, per tornarsi a casa, qual era la via? Ah, sì, sì, è quella lì. Porca miseria, ogni volta mi dimentico come si fa per... Tornare a casa? E questa? E questa? E questa qui cos'è? Scendi, scendi, scendi. È una ceste con... Oh, però è questo, che cos'è? Che cos'è questa roba? Spaccolo, spaccolo, prima che finisca l'aria. Era un vetro? Veramente? Veramente, gioco? Mi prendi in giro così? Comunque, allora, lì c'era la barca, se non sbaglio, dovevamo costeggiare la barca e poi infilarci di là. Porca miseria, porca... Non mi ricordo bene la strada per tornarsi a casa. Mettiamo F5, che è un po' più bellina come visuale. Se non mi sbaglio, dovremmo infilarci qua da qualche parte. Non era questa in senatura perché era chiusa? Sì, direi perfetta, era la prossima. Dobbiamo uscire da questo stretto di Messina, sullo stretto di Messina, e poi infilarci verso sinistra. Spero di non avere sbagliato strada, spero ragazzi di non avere sbagliato strada. Sì, sì, dai, dai. Sì, sì, è qui, è qui, è qui ragazzi, è qui ragazzi. Uh, me la sono ricordata alla fine, alla fine mi sono ricordato la strada. Direi GG per me, direi GG per noi, perché voi siete qua con me. Cioè io vi ho tutte 280 e qualcosina persone qua, tutte dentro questa stanza, tutte a caldissimo. Perché sì, è caldissimo ragazzi. E ragazzi mi avete suggerito male a quanto pare. Mi avete suggerito male a quanto pare. Comunque scherzo, siete sempre tutti qui in ogni gameplay, in ogni video, in ogni cosa su Minecraft o comunque su questo canale. Perché voi siete parte di me e io sono parte di voi. Noi siamo tutt'uno, l'uno e il tanti. Noi siamo lo sciame, lo sciame dei biscotti. Lo sciame dei biscotti. Ah ok, lì c'è sempre la solita struttura che prende fuoco. Che sì, un giorno ho deciso di dargli fuoco perché basta, basta. Dovevano smetterla di far niente, perché alla fine non facevano niente, però va bene così, va bene così. E prima o poi dovrò ritornarci per vedere cosa ne rimane, cosa ne rimane. Ok, ok. Che poi è bello perché nello scorso episodio, No, nello scorso episodio ma cosa dico? Ragazzi vanno all'italiana, ma cosa stai dicendo Andrea Aureo? In questo video quando sono caduto, fatemi un po' pensare dove devo infilarmi, forse di là? No, mi sa che devo infilarmi di qua. Ok. Tokyo Drift! No, non devo andare di là, devo andare di qua, devo andare di qua. Ragazzi, ragazzi non ci sbagliamo. Comunque cosa stavo dicendo? In questo video quando sono caduto nella barca pensavo di aver perso tutto, Poi mi sono ricordato che avevo la Keep Inventory attiva, perciò GG. Almeno quella la tengo attivata, non tanto per, diciamo, il barare su Minecraft, ma più che altro per il tempo che perdo ogni volta che muoio. Nel senso, comunque considerate, facciamo una cosa, facciamo che lasciamo la barca qua dalla struttura che sta bruciando e ce la facciamo a piedi. È da un po' che non camminiamo nel mondo di Minecraft, perciò potrebbe starci come cosa. Allora, se non mi sbaglio dobbiamo andare di qua, se l'orientamento non mi inganna, in teoria sotto questo cosa dovrebbe esserci qualcosa, ma avete scritto nei tanti commenti che sotto c'è qualcosa, o comunque fa qualcosa, o forse era anche uno scherzo, non mi ricordo. Però, sì, non la tolgo, la Keep Inventory, perché, cioè nel senso, magari senza la creative, comunque, togliamo sta roba perché devo salire, no, come faccio a salire? Ragazzi, non ho una pala. Con la Keep Inventory, cioè con la creative mod, effettivamente è un po' un barare perché ci dà blocchi che noi non abbiamo, ok? E lì ci posso stare, nel senso, vi credo, nel senso, va bene, va bene così. Però almeno la Keep Inventory per evitare che, se magari io parlo, sto parlando, sto dicendo le mie solite boiate del tipo, in questo episodio dite fogliolina al vento, che cade sulle nuvole. Ho già capito, facciamo così. Ok, così, così, e saliamo sopra un albero perché non vedo dove devo andare. Non trovo più la via di casa. Ragazzi, mi sono perso per Minecraft. Porca miseria, c'è anche il Creeper che mi deve dare, eh sì, il Creeper, lo zombie che mi deve dare fuoco. Allora, c'è, c'è, dov'è la casetta nostra? Ho perso casetta, ragazzi. Ragazzi, ho perso casetta, casetta nostra. Comunque intanto continuo il discorso, intanto che gironzolo qui per i meandri di Minecraft. Allora, anzi no, quasi quasi, cerco prima casetta. Prima batto sto ragno, qui ci dà fastidio. Porca managgia, porca. E poi cerco casetta fra 3, 2, 1. Ok, ragazzi, rieccoci qui con quel fantastico 200. Era da un po' che non ritornavamo a casa. Era da un po' che non ritornavamo a casa. E la cosa divertente è che ho girato un pochino e mi sono scordato a che punto, c'è nel senso cosa dovevo fare a casetta. Mi sono scordato cosa dovevo fare a casetta. Ma porca managgia, sarà impressionante che io mi scordo. Ah, i tappeti, i tappeti ragazzi, i ragazzi, i tappeti. I tappeti. Qui avevo visto un sacco di stringhe. Ok, direi di commutarle tutte in lana. Fare tanti tappeti. 18 tappeti. 18, 16, 16 più 3 è 18. No, qua no. Qua no. Qua no. Qua non abbiamo stringhe. Ok, qua ne abbiamo altre tante. Let's go ragazzi. Let's go. Andiamo di tappetozzi. Ole. 17 di lana e 42 tappeti. Facciamone un altro po', dai. Facciamone un altro po'. Tramutiamo tutto in tappetini. Ok. E adesso si ritorna alla mob farm. Nel senso, io ho fatto tutta sta strada per prendere dei tappeti. Veramente, andrei un reo. Che poi, effettivamente, adesso che ci penso, c'era quella mega struttura in fiamme. Che comunque lì era pieno, ma pieno di stringhe. E potevamo, cioè nel senso, era molto più easy peasy andare di lì. Comunque ragazzi, allora, facciamo una cosa. Tutti voi guardate attentamente il video e seguite la strada. Così, nel prossimo gameplay, se dobbiamo ritornare a casetta, la sappiamo già. Che poi è semplice, perché è tutta dritta. Cioè, io ricordo che è sempre tutta dritta. Quasi, più o meno. E ogni volta però sbaglio il lato dove dovevo andare. Cioè, è impressionante. È impressionante come la mia memoria, cioè, comunque la mia memoria, il mio senso dell'orientamento sia pari allo stesso senso dell'orientamento di questi polipini. Di questi squid, di queste seppie. Di queste seppie. Cioè, è impressionante, cioè, nel senso, loro sanno orientarsi meglio di me e che loro fanno... Ok, ok, dai che in questo episodio finiamo la mob farm. In questo episodio finiamo la mob farm, anche perché inizia ad avere caldino, perché sto già registrando due o tre episodi a fila. Infatti, la questione del tabellone, dei punti biscottissimi, let's go, non l'ho ancora fatta perché effettivamente, nel senso, non ho ancora punti biscotto da poter... assaporare, ecco, diciamola così. Perché, appunto... Cosa dovevo dire? Cosa stavo dicendo? Ah, sì, perché appunto non ho ancora visto i vostri commenti, perché appunto non esistono ancora i vostri commenti e all'effettivo non esistono ancora i video che stanno uscendo. Cioè, nel senso... Ah, altro gap temporale. Cioè, nel senso, io sto facendo... Sto parlando di video che non stanno ancora esistendo, ma che in futuro esisteranno, prevedendo il futuro... Ah, potrebbe essere interessante come tema di discussione. Allora, allora, facciamo una cosa. Facciamo una cosa furba, ecco. Facciamo una cosa furbissima. Prima che mi perdo di nuovo su Minecraft, facciamo così. Qui facciamo un mega... Un mega pilone. Un piloncino... Di pietra. Così so dove devo infilarmi. Aiaio. Marema, mi sono anche fatto male. Poi... Ci piazziamo qui e ne facciamo un altro qui. Così capiamo che questo è il secondo... Ehm... Pertugino dove infilarsi. Uh! 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 Sì, ragazzi, mi sa che devo andare a cambiare le mutande. Mi devo andare a cambiare le mutande. Ok, mutande cambiate. Via che si ritorna col gameplay. Porca miseria, che spavento che mi ha fatto. Cioè, nel senso, mi sono veramente spaventato. Ah, sti Enderman. Quanto li odio. Quanto li odio. Ok, poi... Poi quasi quasi direi che a metà della via... Del mare. Nel senso, tipo... Inizia a viaggiare un po' qua verso... Appena si vede il... Il nostro mob spawner, che è lì. Gli faccio un altro piloncino di pietra qui. Giusto per capire la via dove andare. Però non qui perché è molto basso. Direi qui. Direi qui. Fatemi un po' vedere se posso piazzarli. Let's go. Shift. Ho finito la pietra? Ho finito la pietra. Usiamo la terra. Usiamo la terra. Ok. Perfetto, perfetto. Così abbiamo segnalato dove dobbiamo infilarci. Così sappiamo dove dobbiamo infilarci per tornarci a casa e non perdiamo più la via. Magari gli metto anche dei blocchi qui. Fammi piazzare un blocco di pietra, di terra per favore. Ole. Perfetto. Così non rischiamo di perdere di nuovo la via del ritorno. Così non rischiamo di perdere più la via del ritorno. Parcheggio. Perfetto. E cosa dovevamo fare? Non mi ricordo più sinceramente. Ok. Dovevamo mettere tutti questi tappeti per evitare che i ragni sponino. Perché i ragni a quanto pare ci danno fastidio. E naturalmente come in ogni video mi devo grattare. Sto partendo con l'extra beat. Yeah baby. E cosa stavo dicendo? Non me lo ricordo neanche più. Si doveva mettere i tappeti. In modo tale che a quanto pare i ragni non dovrebbero apparire. Non so per quale motivo non dovrebbero apparire. E forse perché gli occupa quel tipo quartino di blocco. E effettivamente i ragni essendo grandi tipo 4. 2x2. Penso. Penso. Non appaiono. Potrebbe essere una soluzione interessante. E finire con il tetto. Oh. Oh. Car miseria. Oh. Oh. Ragazzi. Ci è mancato veramente poco. Ci è mancato veramente poco. Che poi effettivamente io per il momento ho lo spawn lì. Per il momento effettivamente io ho lo spawn lì. Perché l'ultima volta che dormite è stato in quel letto che avevamo fatto lì. Ok. Ok. Dai. Vai su. Ritorna su. Vuoi bene a chi vuoi tu. Pium pium pium. Ok. Siamo arrivati in cima. Vediamo quanta pietra abbiamo. Non so se ci basta. Non so se ci basta. Maronna. Se è performante questa mob farm. Se è performante questa mob è anche un po' farm. Ne abbiamo un altro stack. Intanto che tutta quella roba si cuoce. Direi di continuare ad andare di sopra. Oh. Ci è mancato poco che un creeper esplodesse. È sembrata a me o c'era il suono di un creeper che voleva farci male. Sembrava a me o era il suono di un creeper malvagio che voleva distruggerci la mob farm. Qua è solito appienuro padana. Va bene così. Scusate se vedrete poco. Anzi magari faccio una cosa. Elimino le nuvole dalle impostazioni. Ok le ho messe un po' più in alto le nuvole perché effettivamente sennò ci davano fastidio. Ci davano un bel po' di fastidio. Che poi pensavo potessi proprio eliminare le nuvole ma a quanto pare no. A quanto pare... Nel senso posso solo aumentargli l'altezza. Le ho messe verso il limitare del mondo così non dovrebbero darci troppo fastidio per il momento. Per il momento. Per uffetto. Ok continuiamo con le nostre slabine. Quante erano? Non erano stack? Quanti stack ci mancheranno? Questa potrebbe essere una domanda interessante. E speriamo di poter... Oh almeno 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 file. 5 file. Ritroviamo il buco da dove dobbiamo scendere. Qui. Ok scendiamo. Stavo per cadere. Qua ri... Devo beccare il punto giusto perché sennò non si scende. Direi che possiamo saltare. Eliminiamo tutti questi mob. C'è anche una strega. C'è anche una strega. Buongiorno signora strega. Ci dà delle pozioni per caso? Direi proprio di no. Direi proprio che non ci dà pozioni. Poi vediamo se abbiamo appunto finito. Una me la devo ottenere. Una me la devo ottenere perché la devo piazzare dentro al mob spawner. E ritorniamo di sopra. Sì sto facendo un po' di su e giù però... Col fatto che devo fare più cose contemporaneamente mi tocca fare un po' di su e giù. E su e giù. E su e giù. E ci si allena così. E ragazzi per quest'estate si avrà un culetto bello 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 perché si fa su e giù. Qua ci sono tutti i ragni che ci danno fastidio. Piccone in mano. Torce nell'altra mano. E via che si va. Via che si scende. Piazziamo immediatamente un torcino. Uno qui. Uno qui. Ok. Siamo circondati da ragni. Ok siamo circondati da ragni. GG per noi. Quei ragni a quanto pare comitato ragni amichevoli. Siete voi? Ok quanti cacchio di ragni ci sono qui. Fortuna che mi sono portato tutta la roba per mangiare perché sennò rischiavamo di morire. Ok qui abbiamo finito le cose. Comunque la botolina mancava di qua perciò direi di farlo così. Andare di qua. Metterci la botolina. Ma naturalmente c'è nel senso un 50-50 avevo di mettere la botolina e naturalmente io lo sbaglio. Ok stava anche per cadere. Stava anche per cadere. Metterci qui. Eliminare sto ragnetto e iniziare a mettere i tappeti a zigozago. Così. In modo tale che i ragni non dovrebbero apparire. In teoria. Poi in pratica non lo so. In pratica non lo so ma in teoria non dovrebbero apparire. E naturalmente mi sono scordato di mettere. Di mettere il timer per vedere a quanto sto registrando. Va bene va bene. Verrà un episodio di un minutaggio un po' particolare questo. Verrà un episodio di un minutaggio un po' particolare. Uno qui. Qui. E uno qui. Direi perfetto. Ne abbiamo usati veramente un bel po'. Perciò mi sa che non ci basta tutta la lana. Non ci basta per niente tutta la lana. Però intanto iniziamo a eliminare un po' il problema dei ragni. Iniziamo a eliminare un po' il problema dei ragni. Ok. E abbiamo finito tutta orca managgia. Ho un po' di lana. Ho un po' di stringhe. Sì. Ne posso fare altri tre. Ne posso fare altri tre. Però effettivamente se io esco e rientro in teoria da questa mob farm togliendo le torce. Dovrebbero apparire altri ragni. Tanto eliminiamo questi. Uno. Due. E tre. Uno. Due. E tre. Perfetto. Uno. Due. E tre. Abbiamo altre due stringhe. Però non ci bastano per fare dell'altra lana. Apriamo qui. Apriamo. Qui no. Facciamo così. Direi di togliere questa. Ci arrivo. Ma certo che no. Ma certo che no. Togliere quella. Richiudere qui. Veramente ho fatto il blocco sopra. Ma porca managgia. Ok. Saliamo su. Qui dovremmo riuscire a saltare. Non dirmi che ho finito la pietra. Ma porca miseria. Ma porca miseria ho finito la pietra. Lo sapevo che finivo qualcosa nel mentre. Ah ragazzi ragazzi. Mi sa che quasi quasi la concludo qui. Anche perché non so da quanto sto registrando. Vediamo solo. Quanta roba abbiamo accumulato qua di sotto. Quick. Oh un bel po' di pietrozza. Qua abbiamo altra pietra a poter smaltire in slab. No. No scherzavo. Scherzavo. Queste erano slab. Queste erano slab. Qua cosa abbiamo? Abbiamo un po' di pietra. Sì. Oh qua abbiamo anche dell'altro pietrisco. Questo non l'avevo visto. Questo non l'avevo visto. Perciò tramutiamolo tutto in altre slab. Siamo a 32. Qua intanto sta andando. Qua è caduto un creeper. Perciò la mob farm sta continuando ad andare. A produrre. Andiamo sopra. Finiamo questa parte di tetto. Cioè nel senso finiamo. Continuiamo questa parte di tetto. E poi concludiamo il video qui. Let's go ragazzi. Let's go. Pensavo di metterci molti meno video a fare questa mob farm. Ma a quanto pare è veramente lunga. È veramente lunga anche se è molto produttiva. Devo ammettere che è molto molto produttiva. Ok. Poi io lo sto facendo tutto praticamente live. Nel senso lo sto facendo tutto insieme a voi. Così anche voi vedete come si fa con calma. Vi dovete guardare tutti i video per scoprire come andrà a finire. E questa cosa mi piace. Nel senso potrebbe essere interessante. Qua ne ho messi due naturalmente. Mi sono sbagliato. Ok. E magari potete anche suggerirmi nei commenti come migliorarla. Che poi effettivamente la potevo fare molto tempo fa. Perché non serve redstone. Non serve nulla per produrla. Però qui appaiono i mob. Mettiamo una torcina qui. E una torcina qui. E qua. Magari. Magari. Gli metto. Ecco. Un blocco di pietra. Gli metto un blocco di pietra. Gli metto un blocco di pietra. Questa. In modo tale che so da dove scendere. Continuiamo a fare la nostra fila di slabine. Anzi. Questa qua. Gli metto una slab qui. Gli metto una slabina. Ok. Così vedo perfettamente dove devo scendere. Naturalmente nel piazzo 2 lì. Inizia anche a piovere. Ma GG. Cioè GG. Veramente GG. Abbiamo finito tutto? Direi di sì. E con questa pioggia ragazzi. Il video finisce qui. Ti ricordo come in ogni episodio. Di lasciare un like. E iscriviti al canale. Per non perderti nessuno dei miei video. Ci vediamo al prossimo gameplay. E ciao ciaoone. Amici biscottoni.